Viene sul palco degli U2 Days Italia un'altra new entry, Domenico, cara mia, che fa un talk al momento giusto, siamo tutti estremati, adesso l'amazzata arriva con la migrazione, eccolo qua, tieni. L'inferno esiste da un nome, Migrazione Odù, buon lavoro. Per chi non mi conoscesse, sono Domenico Caramia, sistemista presso Apulia Software, oggi porto un argomento molto ostico, la migrazione Odù, e ho dato questo nome perché il mio primo approccio nella migrazione Odù non è stato molto semplice, ovviamente noi da Apulia Software non promettiamo miracoli, ma solamente un po' di chiarezza, il mio primo approccio nella migrazione Odù è stato un po' come Dante con Virgilio, Andrea dopo due o tre mesi che era entrato in Apulia Software mi si è avvicinato e mi ha detto, devi migrare questa documentazione, buona fortuna. Solamente questo, quindi cominciamo a parlare della migrazione, perché migrare? Perché un utente o un cliente dovrebbe migrare da una versione vecchia a una di Odù, ho trovato tre punti, un punto sono le nuove funzionalità, le versioni più recenti di Odù ovviamente includono nuove funzionalità e miglioramenti che possono aiutare a ottimizzare i processi aziendali. Il secondo punto è la correzione di bug e dei patch di sicurezza, qui possiamo vedere tutti i fix che ha fatto Odù casa madre nelle nuove versioni rispetto a quelle vecchie e le maggiori permessi sulle utenze di Odù proprio. La compatibilità con i moduli, alcuni moduli di terze parti potrebbero non essere stati sviluppati per le versioni più vecchie, quindi migrando una versione più nuova potremmo avere l'utilizzo di nuovi moduli che ci aiutano, aiuterebbero la nostra attività a migliorare e ad avere nuove funzionalità. L'inizio di migrazione, noi dopo Apulia Software prima di iniziare a migrare abbiamo fatto una checklist di operazioni per sempre avere tutto il database sotto controllo. Il primo punto è la valutazione dei requisiti, che sarebbe prima di iniziare a migrazione è sempre importante valutare i requisiti specifici del sistema Odù, se ci sono personalizzazioni, moduli aggiuntivi o altre configurazioni che ci potrebbero essere utili nella nuova versione. Un backup dei dati, ci dobbiamo sempre assicurare di avere più di un backup, sia quello di stage che di produzione. Terzo punto è l'aggiornamento ai moduli e delle personalizzazioni, se ci sono moduli personalizzati oppure di terze parti, nell'istanza dove ci dobbiamo assicurare che nella nuova versione siano compatibili. o in altri casi potrebbero essere necessari aggiornare o sostituire tali moduli con quelli delle nuove versioni. Il quarto punto è la preparazione dei dati, puoi pulire e preparare il DB da migrare, ciò può includere la rimozione di dati obsoleti oppure di standardizzazione dei formati e dei dati e la gestione di eventuali dati pubblicati. L'aggiornamento delle personalizzazioni e dei report, aggiornare qualsiasi personalizzazione, report o workflow che potrebbero essere stati influenzati durante l'aggiornamento della versione. Test e validazione, questo è un punto fondamentale che abbiamo riscontrato parecchie volte dopo aver consegnato una migrazione. Eseguire dei test approfonditi e assicurarsi che tutte le funzionalità del sistema funzioni correttamente dopo l'aggiornamento. Quindi di solito noi due pulli a software con l'analista che ha seguito il cliente durante la migrazione ci mettiamo e ci assicuriamo che qualunque parte del database sia completa e funzioni correttamente. L'ultima e non importante è la formazione dell'utente. Ci siamo accorti anche che durante il passaggio alla nuova versione di Odoo i clienti magari abituati per anni a fare sempre le stesse cose in una maniera metodica abbiano un po' di difficoltà ad abituarsi alla nuova versione di Odoo e quindi una formazione completa dell'utente alla nuova versione è fondamentale. Le principali difficoltà della migrazione che abbiamo sempre riscontrato sono le viste che durante lo script di migrazione vengono aggiornate e questa cosa potrebbe causare errori oppure viste duplicate o archiviate. Moduli custom che portano conflitti durante lo script di migrazione non essendo del core di Odoo con moduli custom intendo anche moduli comprati oppure qualsiasi cosa nativa di Odoo. Moduli non migrati, quindi dobbiamo fare attenzione a una lista completa e controllare se il modulo che è presente sul database è stato migrato alla versione su quale vogliamo andare. La prossima sono i file store. Alla fine lo script di migrazione vengono, oltre al dump del database, ci vengono rilasciati i file store che frequentemente non sono completi oppure rilasciano errori. Le costraint di solito rilasciano errori durante la migrazione se ci sono costrainti che permangono inerenti alla vecchia versione di Odoo. Le modifiche con Odoo Studio non sono facilmente migrabili in tutte le situazioni. Odoo Studio è un potente strumento che ci permette all'utente di fare personalizzazioni senza scrivere codice. La difficoltà nella migrazione è che magari questi campi o queste viste non siano presenti nella nuova versione di Odoo. Odoo SH. Durante le migrazioni su Odoo SH ci siamo resi conto che ci siamo imbattuti in questa serie problematica che lo script di migrazione eseguibile nello stage parte sempre dall'ultimo backup del main. Quindi qualunque azione primaria fatta non verrà presa in considerazione. Inoltre abbiamo notato che i SAM module non vengono gestiti correttamente con la versione target. Le versioni molto vecchie di Odoo, e qui è un aspetto molto importante, hanno molta difficoltà di essere migrati siccome nel nostro caso abbiamo dovuto passare un Odoo 8 community a passare alla 14. Quindi dall'8 alla 12 abbiamo usato OpenUpgrade. L'abbiamo passato fino alla 12 perché Odoo Upgrade all'epoca partiva dalla versione 12, lo script di migrazione partiva dalla versione 12 in poi. Quindi arrivati alla versione 12 abbiamo reso il database Enterprise e l'abbiamo affidato allo script di migrazione di Upgrade Odoo. Esempi di errori. Solitamente le viste. Non ci saranno più viste compatibili con le versioni recenti. Quindi per risolvere l'errore abbiamo trovato quello di eliminare la vista tramite query. I moduli custom. Il metodo che abbiamo trovato dei moduli custom è far settare questi tramite query come disinstallati. Il system, lo script, non li leggerà come installati quindi farà passare, lo script di migrazione passerà e quindi basterà solamente a far leggere il modulo nuovo della versione target quindi non avremo né perdite dei dati e quant'altro. I file store. Alla fine lo script di migrazione oltre a dump, come ho detto prima, ci vengono dati i file store perché facendo un check visto che all'apertura del database migrato mi diceva che mancavano file store facendo un check tra i file store del nuovo e del vecchio DB ho notato sempre che c'erano più o meno la metà dei file store del DB iniziale quindi la soluzione che ho trovato è unire due file store cioè due cartelle dei file store del database migrato con quello vecchio e così ho risolto l'errore. Le constraint, per risolvere l'errore delle constraint anche queste qua ci basterà solamente eliminarle cioè romperle per fare poi aggiornare il modulo che magari mette la constraint sulla tabella e qui così la nuova constraint non darà più problemi. Passiamo a ripressione di database migrato facciamo prima di tutto una checklist cioè controlliamo l'istanza su cui andremo a mettere il DB migrato che sia completa di tutti i repository moduli e configurazione quindi che sia completa per il database nuovo. L'aggiornamento completo consiglio sempre di fare un aggiornamento completo prima di aprire il DB tramite riga di comando. Gli assex è un altro problema che abbiamo riscontrato che all'apertura erano completamente rotti o non facevano aprire proprio il DB quindi anche qui tramite query cancellarli e farli ricreare. All'apertura delle sezioni database qui abbiamo notato che all'apertura del nuovo DB anche dopo l'aggiornamento per un errore anche avendo fatto una checklist aver controllato i repository i moduli e quant'altro di necessario per mancanza di valutazione di venticanza se incominciamo a aprire sezioni come magazzino contatti contabilità e via dicendo ci potremmo imbattere in errori di viste mancanti campi non trovati questi errori di solito sono causati da moduli custom non migrati oppure che hanno cambiato nome di campi o classi un esempio in particolare che ho sempre riscontrato è le 10 causali di pagamento che siccome ha subito un cambio nome è diventato payment reason di solito mi succedeva che all'apertura di determinate sezioni di DB mi dava codice causali di pagamento non trovato quindi il consiglio che do siccome il modulo è stato migrato i dati verranno passati correttamente alla nuova versione del modulo quindi facciamo leggere il modulo della versione per esempio 12 all'istanza lo disinstalliamo e così non si avranno più questi tipi di problemi gli altri errori sono gli errori JS che essenzialmente è una delle difficoltà maggiori di errori trovati durante le migrazioni perché non dicono molto se non niente rispetto all'errore quindi non sappiamo essenzialmente dove andare a mettere le mani uno dei metodi migliori che ho trovato per risolvere l'errore è stato usare i dev tools del browser che ci permettono essenzialmente di attivare la modalità debug mettere dei breakpoint quindi far scattare l'errore e riuscire a capire da cosa è causato l'errore e andarlo a risolvere in conclusione vorrei dire che abbiamo esaminato l'importanza delle migrazioni youtube e come possono rappresentare un passaggio cruciale per garantire la nostra azienda o l'azienda e i nostri clienti un passaggio fondamentale per l'evoluzione tecnologica e l'esigenza del nostro business abbiamo visto che una migrazione ben organizzata e pianificata possa portare a maggiore efficienza quindi a non perdere tempo oppure allungare parecchio i tempi per il cliente ed aggiungere nuove funzionalità cioè la migrazione non è solamente un trasferimento dati ma anche un potente mezzo per ottimizzare i processi aziendali e sfruttare appieno le potenzialità di odù è fondamentale anche coinvolgere tutte le parti interessate pianificare effettuare ogni fase e testare accuratamente il nuovo sistema prima di lanciarlo quando iniziate a migrare non abbiate paura degli effetti collaterali che si possono avere questi siamo io e Ciro all'inizio di una migrazione questi siamo io e Ciro dopo una migrazione tu grazie per l'attenzione bravo Domenico l'emozione si palpava nell'aria ma è andata bene dai sei stato bravo hai esposto perfettamente ce l'abbiamo le domande no yes stesi stesi comunque non abbiate paura perché un fotomontaggio non era reale perfetto collaterale va bene facciamo un applauso ah no 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 eccolo là funziona così quando dico va bene allora esce la manina Vito lo conosci Vito? si si ci ha fatto qualche call microfono maestro no allora volevo chiedere vi è mai capitato di fare un passaggio da una versione 12 community a una versione 16 enterprise ad esempio perché comunque quello che potrebbe succedere è andare magari un cliente vuole passare la versione enterprise per utili motivi e quindi capire se è possibile fare questa migrazione si è possibile l'abbiamo anche fatto ci sono molte differenze da quello che ho illustrato ok anche il contrario sono una versione enterprise e voglio passare a una versione community sempre passando ok non c'è nessun problema no l'importante è poi a fine migrazione fare cioè DB non lo rendi più enterprise ok grazie diciamo che il passaggio è sempre reversibile in ogni caso quindi la differenza la fa il modulo web enterprise che quando è attivato poi va a scattare la richiesta di licenza d'uso e poi mette tutto il mondo che c'è dietro e disinstallandolo ti ritorna normalmente alla versione community posso per completezza volevo anche aggiungere per rispondere a Vito che si può fare però dovete tener conto che disinstallando web enterprise vengono disinstallati anche tutti quei moduli che fanno parte solo della funzionalità enterprise e dalla versione 11 non voglio dire castronerie forse già anche dalla 10 la disinstallazione di un modulo prevede anche il drop delle colonne dal DB quindi la perdita completa del dato quindi diciamo che passare da una community a un enterprise ha sicuramente un senso insomma meno rischioso passare da un enterprise a una community potrebbe comportare perdita di parecchi dati che non sono poi fruibili sulla versione community grazie 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 domenico grazie 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 Grazie.